La ricorrenza è... 1863, a Fano viene fondato il Corpo dei Vigili Urbani, ora Polizia Locale. 153 anni di storia e di rapporto con la città, 153 anni di lavoro a tutela della sicurezza urbana e sociale, 153 anni di pattuglie, divise, uomini, servizi speciali e migliaia e migliaia di ore a dirigere il traffico. Storia, cimeli ed orgoglio di un Corpo di Polizia al servizio della comunità. Domani ricorre appunto il 153esimo anniversario del Corpo e per l'occasione la cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia religiosa che si terrà nella chiesa di San Paterniano alle ore 10, in occasione della quale si esibirà anche il coro del Corpo della Polizia Municipale, già apprezzato in altre apparizioni pubbliche. Siamo soddisfatti, mi premeva sottolineare anche che in occasione della Santa Messa, che ci sarà in occasione proprio della ricorrenza, che domani il 5 di novembre ci sarà il coro della Polizia Municipale, che è stato tanto apprezzato a fermo in occasione della festa regionale della Polizia. 153 anni non solo a far multe, come tiene orgogliosamente a sottolineare il comandante Fuligno. La moderna interpretazione del servizio passa attraverso tecnologie innovative e moderne tecniche di controllo e monitoraggio del territorio, attraverso anche sistemi di videosorveglianza con apparati multifunzione, che hanno consentito di individuare 900 mancate revisioni, 1200 violazioni alla ZTL, 140 fermi fiscali e 257 reati ambientali, oltre a 1700 eccessi di velocità. A 5 agenti inoltre sono stati conferiti questa mattina attestati di lodevole servizio, con particolari operazioni che hanno consentito agli agenti Schiavone Michele e Carofiglio Michele, tra l'altro, di arrestare un pericoloso, pluripregiudicato, reo di furto di un veicolo. Ma al di là delle individualità e lo spirito di corpo, quello che più galvanizza il comandante in questa ricorrenza. Comunque è significativa anche la coesione nell'ambito pur delle difficoltà. Il personale ha proposto tante iniziative che piano piano metteremo in atto, da una rassegna storica di tanti ricordi che abbiamo, ad uno stand su tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, alla visita del comando. Tra l'altro il nostro comando ha anche delle grotte che sono medievali, che meritano adesso un attimo di attenzione in relazione al sisma, ma che sono veramente belle, ricordi medievali sotto il comando.